come giocare una buona seconda palla di servizio dando rotazione in kick alla palla ovviamente primo consiglio è quello di lanciarti la palla sopra la testa meglio se leggermente indietro in modo tale da colpire la palla per bene dal basso verso l'alto e poi devi tenere la mano morbida perché se tieni la mano morbida poi riesci a dare questa spazzolata veloce dal basso verso l'alto che è quella che gli dà rotazione in top alla palla se invece la mano è rigida e dura ti verrà da fare questo e quindi giocare una palla piatta con tutti i rischi che ne conseguono se poi vuoi dei consigli personalizzati per migliorare il tuo servizio posso aiutarti con la video analisi a distanza trovi tutte le informazioni sul link in biografia